Bentornati amici, siamo qui come sempre per parlare di uno degli ultimi shooting fotografici che sono stati realizzati, di cui vi parlerò dopo la sigla. Bene eccoci qui, innanzitutto vi ricordo di lasciare un like sulla fiducia a questo video e iscrivervi al canale in maniera da non perdervi altri contenuti istruttivi ed educativi proprio come questo. Andiamo a parlare di quello che è il cliente. In questo caso abbiamo a che fare con una maglieria, quindi un negozio di abbigliamento che fa sia uomo che donna. È una bottega storica, quindi una sede che esiste con lo stesso proprietario da oltre 50 anni. Come non smetto mai di ripetere, visto il momento un po' particolare, visto che ci siamo tutti resi conto che la vita è un po' meno sicura di quello che pensavamo, tutti quanti hanno deciso improvvisamente di buttarsi sul digitale e quindi abbiamo tutti riscoperto il digital, Facebook, Instagram e tutte le piattaforme che ci permettono di esserci anche quando non possiamo essere lì fisicamente. Proprio in quest'ottica il cliente richiede costantemente dei servizi fotografici per poter mostrare sui social di volta in volta quello che è l'allestimento del negozio, quindi gli spazi interni e i prodotti stagionali che cambiano ovviamente col susseguirsi delle stagioni perché l'abbigliamento è differente tra una stagione all'altra. Quindi sono necessarie delle foto per rimarcare questo fatto. Ovviamente quando arriva la merce invernale si fa lo shooting per la stagione autunno-inverno, quando arrivano i costumi da bagno si fa la stagione primavera-estate. Lo scopo dello shooting quindi solitamente è proprio questo, mostrare la stagionalità. Quando mi reco da questo cliente solitamente realizzo delle foto di interni che non hanno propriamente a che fare con i prodotti, però servono a mostrare l'allestimento interno, servono a far vedere che c'è una varietà e c'è una stagionalità, quindi è evidente che se lo guardo in primavera o in inverno vedrò dei prodotti diversi, gli indumenti diventeranno più pesanti e l'intero assortimento sarà differente, perché comunque ci sono gli arrivi della stagione. Quindi le foto di interni che vado a realizzare in questo negozio servono prevalentemente a questo. Parlando dello shooting vero e proprio e della strumentazione, io quando devo realizzare le foto di interni in un contesto tutto sommato semplice e amichevole come questo, quello che faccio è che mi porto dietro il mio solito treppiede Manfrotto, bello stabile in maniera tale che lavoro con serenità, mi porto dietro in questo caso, sto utilizzando la 5D Mark II, quindi una camera abbastanza vecchia, credo che abbia più di 10 anni ormai, una camera comunque che performa assolutamente bene e l'unico inconveniente che potrebbe incorrere è una messa a fuoco non esattamente all'altezza con gli ultimi standard, ma in questo caso stiamo scattando interni, stiamo scattando su treppiede, stiamo scattando con un diaframma abbastanza chiuso, quindi francamente la messa a fuoco non è un problema in quanto sarà tutto a fuoco e ho tutto il tempo di mettere a fuoco ogni volta, quindi non sto cercando di beccare un colibria in volo a mano libera. In questo caso sicuramente non andrei a prendere questo tipo di camera, ma cercherei una più moderna e con una messa a fuoco un po' più prestante, ma in questo caso me la cavo benissimo con questa strumentazione. Sto utilizzando alternativamente o il 1740 o il 1635, uno dei due, non è che cambi granché, in questo caso credo di aver usato il 1740 perché come vi avevo già detto in un video precedente, intanto lo stabilizzatore non mi serve, quindi anche se avessi il 1635 stabilizzato lo stabilizzatore sarebbe su off perché sto su treppiede, quindi non lo userei. In secondo luogo mi piace di più la stellina che creano i punti luce sul 1740, quindi in molti casi quando devo scattare interni preferisco ricorrere all'utilizzo di questa lente. Per mantenere il tutto molto stabile sto utilizzando il mio comando wireless che è un semplicissimo Canon RC6, un comandino wireless senza fili che troviamo a una cifra ridicola, mi pare che costi 20 euro o una cosa del genere. Io lo utilizzo pressoché sempre, la batteria vive più di me, quindi è una cosa che mi tengo sempre nello zaino, tanto è grande come un porta chiavi, non pesa niente, sta sempre lì quando mi serve e lo tiro fuori, imposto la mia camera su telecomando wireless e sono pronto a scattare. L'unico inconveniente è che essendo wireless bisogna puntarlo verso il ricettore della fotocamera, quindi bisogna metterlo sul frontale della camera, quindi se siamo ripresi basta puntarlo verso la camera, ma se la camera sta puntando avanti rispetto a noi dobbiamo mettere la mano davanti e premere senza toccare la camera, ovviamente se no vanifichiamo il tutto. Durante la stessa sessione vengono realizzati anche dei video verticali che hanno ovviamente uno scopo ben diverso, i video verticali servono a illustrare attraverso un video, quindi attraverso una spiegazione parlata anche, quelli che sono i nuovi prodotti stagionali. È tutta diversa la strumentazione ed è tutto diverso l'approccio ovviamente, nel senso che per le fotografie stiamo utilizzando una fotocamera, stiamo utilizzando in formato orizzontale, quindi landscape, stiamo utilizzando una lente molto ampia e stiamo usando addirittura il bracketing, quindi stiamo catturando tre esposizioni della stessa scena che vengono poi mescolate in postproduzione, quindi realizziamo uno scatto HDR per avere la massima resa. Discorso video è completamente diverso, ovviamente non si può fare il bracketing sul video perché il bracketing presuppone delle esposizioni dilatate del tempo, mentre il video ha un'azione che si svolge in un dato momento. Quindi quello che andiamo a fare è che andiamo a bilanciare l'esposizione con dei pannelli riflettenti in maniera tale da avere l'esposizione che vogliamo sul soggetto, gli spotlight del negozio aiutano molto ma in certi casi creano delle ombre che possono non andare bene, quindi in certi casi si vengono posizionati dei pannelli per attutire questo effetto e cercare di smussare un pochino le ombre, proprio come potremmo fare in questo caso, vedete, io posso andare a smussare le ombre che ho addosso, in questo caso sto usando una luce, se avessi un pannello riflettente potrei fare più o meno la stessa cosa, semplicemente posizionando un pannello su questo lato andrei a riflettere la luce principale che illuminerebbe correttamente il mio soggetto andando a smorzare un pochino la parte in ombra. I video, come vi dicevo, vengono girati in formato verticale perché ormai il formato verticale è entrato prepotentemente nelle nostre vite anche se io sono assolutamente contrario a questo formato nel senso che non mi piace, nel senso che io sono ormai a una certa età quindi credo di poter dire di essere abbastanza vecchio, proprio vecchio di spirito e io sono abituato ad andare al cinema e avere un bel monitor largo in formato cinemascope e godermi un film che mi lasci spaziare la vista. Per me guardare le stories è una vera e propria tortura, mi sembra di stare guardando qualcosa attraverso lo spiraglio di una porta socchiusa, non lo trovo comodo, mi sembra assolutamente sconveniente per la biologia dell'essere umano proprio per come sono posizionati i miei occhi, mi sembra assolutamente scomodo quindi non mi piace quel formato, tuttavia nel momento in cui un cliente manifesta l'interesse giusto perché il fatto che non piaccia a me non significa che il mondo non stia andando da quella parte, se la gente è contenta di usare un occhio solo per guardare le cose io cosa ci posso fare? Nel momento in cui un cliente manifesta l'interesse di realizzare dei contenuti verticali ovviamente è la cosa più social che si può fare in questo momento e quindi quello che si fa è che si va a tiltare la testa rotante del cavalletto, in questo caso però non utilizziamo più la stessa fotocamera perché la 5D Mark II non ha la possibilità nativa di avere l'esposizione manuale durante i video. Questa possibilità è stata in realtà introdotta con un firmware successivo che però io non ho mai scaricato perché la 5D Mark II l'ho comprata diversi anni dopo che era uscita, non ho più avuto voglia di mettermi lì a scaricare firmware quindi l'ho tenuta così come era di fabbrica, nel momento in cui devo fare un video utilizzo semplicemente un'altra camera. In questo caso, vista la durata molto estesa dei video che siamo andati a realizzare, nel senso che i contenuti sono corti ma ci è voluto molto tempo per andare a realizzarli perché tra una scena e l'altra doveva essere cambiato tutto il rack con sugli indumenti quindi siccome è stata una sessione molto lunga, inoltre c'erano di frequente delle interruzioni quindi spesso si doveva ripetere la scena diciamo che una Reflex sicuramente non avrebbe tenuto il colpo in quanto a batteria. Una moderna mirrorless ancora di meno perché quelle batterie durano veramente poco, infatti il downfall delle mirrorless secondo me è proprio questo, la batteria non è assolutamente al passo. Ora se io recupero un po' di peso perché la mia camera pesa di meno però poi devo portarmi dietro 6 o 7 batterie francamente rimango con quello che avevo. In questo caso essendo un contenuto social comunque si è cercato di girare in scioltezza quindi ho utilizzato l'Alegria HFG25, una camera che ormai credo di avere da 10 anni, non ha mai perso un colpo, è sempre al passo coi tempi, ovviamente gira in full hd a 25 frame al secondo, non arriva a fare neanche 30 frame al secondo, non è una camera prestante però è una camera con un ottimo zoom, veramente ottimo, con una qualità di immagine che ancora si difende, con una gamma dinamica che non mi crea problemi e quindi una camera che assolutamente posso utilizzare per questo scopo. Una camera oltretutto leggera che non mi crea problemi quando io la vado a mettere in verticale perché se io avessi messo in verticale per esempio una 5D Mark IV con zoom 24-70 e lì dipende da che cavalletto avete però lì è necessaria una staffa per tenerla dritta perché il peso dell'obiettivo fa sbilanciare la vite e quindi la camera rischia di pendere in avanti durante la ripresa il che assolutamente non deve succedere quindi bisogna puntellarla con una staffa supplementare. Con una camera leggera come la HFG25 questo non succede quindi in tutta scioltezza semplicemente con un giro della vite siamo pronti a girare, pronti via. Difficoltà riscontrate durante questo shooting? Allora sicuramente gli spotlight del negozio mettono un pochino in difficoltà l'attrezzatura, non tanto per la messa a fuoco che si può essere problematica quando c'è uno spotlight che punti direttamente all'interno dell'elemento frontale dell'obiettivo ma non è tanto quello il problema perché comunque con una lente ampia il problema è veramente minimo. Il problema sono piuttosto le luci parassita, i flare che si vengono a creare e anche le stelline che a me comunque piacciono rischiano di essere troppo invasive. Anche per questo io tendo a utilizzare il bracketing. Ho utilizzato il bracketing a due stop in questo caso perché la 5D Mark II non consente il bracketing superiore ai due stop quindi ho usato quello che avevo a disposizione. Lo faccio perché, e cerco di sottoesporre, lo faccio perché in questo modo riesco a minimizzare i punti luce e riesco comunque a tirare fuori un po' di dettaglio anche dalle zone più scure. Questo lo faccio sempre quando faccio fotografie di interni perché mi serve a dare un po' di brillantezza in più al negozio, a far emergere quelli che sono i punti di forza, altrimenti avremo una foto che sarebbe sì più contrastata perché, attenzione, l'HDR toglie contrasto, però sarebbe una foto che mi lascia mettere meno in evidenza quello che è l'insieme del negozio. Avrei l'accento o sulle luci o sulle ombre e non è quello che voglio in questo caso. Una domanda che mi avete fatto spesso è che tipo di illuminazione usi quando realizzi fotografie di interni? Allora, tenete conto che nel momento in cui io stessi realizzando fotografie a real estate per un architetto, un architetto magari è disposto a pagare un sacco di soldi per uno shooting real estate di un edificio che ha progettato e terminato di costruire. Non è questo il caso. Qui siamo nell'ambito di un negozio che paga un abbonamento mensile e quindi non ci sono grosse cifre in ballo. Per questo motivo bisogna anche essere agili nel momento in cui gli si fa il lavoro, senza contare che il negozio è probabilmente aperto nel momento in cui ci brecchiamo a realizzare lo shooting. Non dimenticatevi mai che il 99 periodico per cento delle attività per cui lavorerete non fermano la produzione per farvi fare il lavoro. Quindi non stiamo parlando, cosa ne so, di cracco che chiude le cucine e si mette lì a fare un piatto da solo con il fotografo perché la foto deve venire perfetta. Quello sì esiste, ma non capita quasi mai. La maggior parte delle attività sono attività normali con un giro d'affari normale. Non sono cracco, non sono in galleria Vittorio Emanuele e quindi non chiudono il negozio quando si realizzano le foto. Per cui bisogna realizzare gli scatti con in più l'intralcio di avere dei clienti che entrano e escono. Peggio ancora se si tratta di video perché i clienti che entrano e escono fanno rumore e quindi anche se io non li inquadro si sente il baccano in sottofondo. Quindi problema per quanto riguarda il video sicuramente questo, i rumori, la parte audio è molto importante. Come vedete uno cerca di curare la parte audio prendendosi un microfono dedicato, avendo tutta una serie di ninno lì a parte, delle staffe, delle giraffe. Però questo è completamente vanificato nel momento in cui entra qualcuno dalla porta qui dietro e dice buongiorno è permesso, ho visto le giacche nuove, video da buttare, video da rifare da capo. Quindi questa è sicuramente una difficoltà. L'altra difficoltà come vi dicevo le luci farassita all'interno degli scatti, minimizzate con il bracketing. Il bracketing comunque lo si fa sempre. Quello che ci tenevo a dire sull'illuminazione è semplicemente questo. Nel momento in cui stiamo lavorando per un cliente top che ha chiuso il negozio per noi, allora possiamo prenderci il tempo per portare le nostre luci, misurare tutto quanto con l'esposimetro, con dei colorimetri, andare a fare delle rilevazioni, fare degli scatti di prova, portarci dei gel per gelare o le luci o le finestre o entrambe le cose. Se bisogna fare uno scatto d'autore si può pensare anche a una soluzione di questo tipo. Ovviamente in un contesto come questo io non posso pensare di dire al mio cliente guarda devo metterti, devo salire con una scala, metterti un gel colorato su tutti gli spotlight perché devo mettere qualcosa che attenui la luminosità e qualcosa che gli dia una colorazione diversa. Quindi devo stare lì ad appiccicarti tutte queste cose su tutti gli spotlight e poi te le devo anche togliere. Così si sta in ballo due giorni. Ovviamente questo non è un plus per il nostro cliente perché non è né un cliente che ha richiesto una lavorazione di questo tipo, è completamente inutile in questo senso. Nel senso che qui il focus dovrebbe essere sui capi, nemmeno sul negozio. Quindi noi facciamo vedere il negozio ma è improponibile una cosa del genere. Questa cosa si fa per un architetto, si fa quando il focus è l'edificio e quindi bisogna avere un occhio di riguardo anche per come è illuminato ma non è questo il caso. Inoltre noi non possiamo dire al nostro cliente guarda io ti faccio chiudere il negozio per tre giorni perché devo fare delle misurazioni e poi devo fare gli scatti però tenendo tutto sotto controllo. Non è questo il caso. Quindi quando si fa fotografie di interni di questo tipo assolutamente non si fa chiudere il negozio e secondo me non si usa neanche un granché di luce in più. Io di solito tendo a usare il bracketing proprio per questo perché mi consente di lavorare con la luce che c'è. E guardate che con la luce che c'è in negozio il più delle volte si riesce a fare quasi tutto perché comunque è un'illuminazione studiata per mettere in risalto quello che è l'assortimento. Quindi è un'illuminazione che dovrebbe già andare bene di per sé. Il bracketing serve semplicemente a tirare fuori i dettagli dalle zone che rimangono naturalmente in ombra. Quindi può essere il di sotto di un cassetto, il di sotto di una mensola o il di sotto di uno scaffale. Queste zone vengono portate fuori e il negozio sembra più luminoso se abbiamo scattato col bracketing. Ma è semplicemente questo. Se ci sono dei casi particolari in cui veramente ci sono delle ombre veramente sgradevoli a quel punto sì. Allora sì è possibile integrare il bracketing con il flash. E in questo caso la cosa migliore da fare ovviamente è utilizzare un flash remoto anche perché se usiamo le impostazioni automatiche almeno io ho riscontrato dei problemi sulla 5D Mark II nel senso che abilitando il flash inibisco il bracketing perché il bracketing non è pensato per essere utilizzato in abbinamento al flash. Sulle camere moderne forse questa cosa viene bypassata ma io ho avuto questo problema. Quindi il flash lo utilizzo a mano, lo utilizzo magari con un trigger però bypassandolo andando in manuale senza dire alla camera di usare il TTL e senza dire alla camera di usare parametri automatici altrimenti il flash viene inibito. Questo è un altro problema che ho avuto. In quel caso si può pensare di usare il flash per illuminare delle zone molto buie. Si fa uno scatto di prova con il flash e si vede come performa. Se abbiamo un cavalletto giusto quindi robusto un cavalletto che non si muova al primo tocco possiamo fare anche a mano cioè possiamo farci un bracketing ulteriore a mano per avere uno scavo delle ombre ancora più dettagliato. Questa è una cosa in più ma dipende proprio dal cavalletto che abbiamo perché alcuni cavalletti basta toccarli e si perde subito l'assetto. Invece cavalletti come il mio che è un manfrotto quindi un cavalletto bello abbastanza pesante ma è giusto che sia pesante perché deve sostenere la camera e non deve muoversi appena lo tocco deve essere stabile io posso tranquillamente girare la ghiera senza che la camera si muova e questo è un plus considerevole quando si sceglie un treppiede. Parliamo un attimino di post produzione. Qui abbiamo la solita post produzione di base nel senso che i miei soliti preset per la nitidezza dopodiché abbiamo la solita lavorazione hdr quindi abbiamo unito i tre scatti che abbiamo fatto in bracketing e abbiamo ricavato una foto con una gamma dinamica espansa che ovviamente pesa un po' di più ma vale tutta la candela perché ci permette di presentare al nostro cliente un lavoro che altrimenti non avrebbe potuto ottenere. Per quanto riguarda i video è un pochino più complessa la faccenda nel senso che trattandosi di video il fatto che siano verticali non comporta un grosso sbattimento ma il fatto che debbano essere montati invece sì. Ora normalmente i video vengono montati con l'audio a parte in questo caso abbiamo optato per una soluzione ibrida nel senso che l'audio viene catturato autonomamente con un microfono lavalier quindi si tratta semplicemente di sincronizzare l'audio il video una cosa rapidissima che si fa all'inizio e poi va sempre bene una volta fatto questo si monta il video non c'è un granché di montaggio da fare nel senso che le scene sono studiate per essere fatte e finite così come sono questo è un grandissimo plus quando si realizzano video secondo me nel senso che meno girato io ho e più efficiente sarò è evidente che se io faccio partire la camera e la lascio lì sei ore e ci sono solo tre minuti buoni che poi io devo estrarre io poi a fare l'editing ci metterò sei ore più tre minuti perché devo riguardarmelo tutto individuare quei tre minuti riguardarmi i tre minuti buoni e poi tagliare tutto il resto se invece io ci metto un pochino di più magari ad allestire la scena ma poi riprendo solamente i tre minuti che sono buoni e poi l'editing è già quasi fatto l'ho già fatto prima cioè mentre ero lì dal cliente questo vi assicuro che oltre a farvi risparmiare tempo è un toccasana per la vostra mente perché vi impedirà di diventare pazzi questo semplicemente per dire che non c'è stato chissà cosa di editing su questo video è stata fatta semplicemente un minimo di color correction ma proprio poca poca perché comunque ricordiamoci che quando si fa video impostare correttamente i parametri del bilanciamento del bianco già in camera è molto più importante che quando realizziamo delle foto infatti in fotografia possiamo intervenire successivamente sul bilanciamento del bianco e se abbiamo scattato in raw o nef o che dir si voglia o dng possiamo intervenire su questi parametri con una caduta qualitativa assolutamente trascurabile cosa che non vale per il video nel video è pur sempre vero che io posso intervenire sulla temperatura colore lo posso fare in qualunque momento è un procedimento semplicissimo ma ho una caduta qualitativa che sarà tanto più evidente tanto quanto più io spingerò questo parametro agli estremi e ovviamente dipende anche da dal mezzo di acquisizione che ho utilizzato perché se ho utilizzato una fotocamera una videocamera decente potrò spingermi un po più oltre se ho usato un cellulare anche il minimo cambiamento mi porterà fuori pixel e artefatti che non faranno altro che rivelare che ho fatto delle modifiche postume quindi che avevo cannato qualcosa prima perché ricordatevi che se faccio tanta post vuol dire che ho cannato qualcosa durante la fase di scatto per questo motivo che è meglio fare le cose giuste in fase di scatto piuttosto che ritoccarle all'inverosimile dopo per quanto riguarda la consegna dei materiali siamo sempre sullo standard quindi vengono consegnate delle fotografie in formato jpeg con un normalissimo protocollo ftp in questo caso si è trattato semplicemente di we transfer perché i materiali non erano poi così tanti fotografie come sempre con profilo colore adobe rgb 1998 io sono particolarmente legato a questo profilo colore perché mi consente di essere un po più flessibile dopo nel senso che se le voglio mettere sul web posso farlo ma se le voglio stampare posso ancora convertirle ovviamente se io gliele avessi date con srgb che è il profilo colore adatto al web quindi ai social non sarebbe cambiato chissà cosa nel senso che erano già pronte per il web e amen probabilmente non le avrebbe mai stampate però se un giorno cambia idea ed è pur sempre vero che i clienti questa cosa non la sanno e quindi spesso prendono le foto e le caricano senza convertirle quindi questo può generare uno sfalsamento dei colori in fase di pubblicazione ma questo problema non c'è perché in questo caso la pubblicazione delle fotografie su tutte le piattaforme del cliente è gestita quindi non se ne occupa il cliente direttamente stessa cosa vale ovviamente per i video i video vengono comunque esportati attraverso premiere pro quindi viene utilizzato uno dei preset in questo caso io sto utilizzando molto spesso il preset youtube full hd che è un'impostazione che mi dà più o meno la qualità che mi serve con le impostazioni che mi servono per il web sto usando sempre quello anche se devo pubblicare da altre parti mi rifaccio comunque a quei parametri che ho trovato per me funzionano molto bene ora come foto preferita vi posso dare sicuramente questa perché si tratta di una foto che è molto rappresentativa del punto vendita infatti io ogni volta ma veramente ogni volta che mi recco a fare le foto in questo punto vendita cerco sempre questa angolazione perché mi piace perché è rappresentativa perché è l'ingresso quindi a quello che uno vede quando entra nel negozio io cerco di farla ogni volta diversa è una roba pazzesca io ogni volta che entro potrei potrei mettere veramente lo scotch per terra e rifarla sempre uguale ma ogni volta vedo un qualcosa di nuovo magari una macchia di colore dietro un manichino messo in maniera diversa non la faccio mai due volte uguale e questo mi piace perché significa che ogni volta che si entra nel negozio si riesce a raccontare la stessa cosa ma in modo lievemente diverso a seconda di come si presenta la scena e un'altra cosa che ho notato fra l'altro è che a seconda delle varie stagioni mi viene spontaneo modificare la colorimetria delle mie immagini quindi se si sta parlando magari di una stagione preferisco dargli una certa tinta piuttosto che un'altra ad esempio le foto realizzate in quest'ultimo periodo che sono quelle per la stagione autunno-inverno ho preferito dargli una colorazione lievemente più tendente al giallo perché mi richiamava un po' i colori dell'autunno e poi in generale questo giallo che tende quasi all'oro mi portava quasi già verso il Natale quindi ho preferito dargli una colorazione di questo tipo se fossimo stati a gennaio o febbraio sarei andato su una tinta un pochettino più bianca un po' più vicina al colore della neve delle montagne dipende proprio dal periodo e dalla sensazione che si vuole trasmettere anche oggi come in quasi tutti gli shooting che affronto ho imparato qualcosa in questo caso specifico ho imparato che sulla 5D Mark II se io abilito il bracketing e monto il flash a slitta il flash viene inibito anche se è acceso probabilmente il bracketing fa conflitto con le impostazioni del flash perché in realtà non è previsto che venga utilizzato un flash durante il bracketing quindi bisogna trovare delle soluzioni alternative oppure probabilmente usare una camera più moderna perché sono sicuro che sulle camere più moderne c'è un parametro per abilitare questa funzione mentre su questa camera che è un po' vecchiotta almeno io non l'ho trovato e comunque ho risolto semplicemente utilizzando un trigger di terze parti che quindi bypassa questo meccanismo laddove è necessario un'altra cosa che mi sento di dirvi che non ho imparato qui e che forse avrei fatto meglio a mettere nelle difficoltà ma in realtà non c'è stata questa difficoltà quindi va bene così state attenti al parquet state attenti alla pavimentazione quando scattate perché ogni volta che spostate il peso sul parquet il cavalletto rischia di muoversi perché è posato sulle assi se voi fate peso su un asse l'asse si muove il cavalletto si muove quindi vi manda a quel paese tutto lo shooting se non state molto attenti in questo caso c'era il parquet era un parquet fatto bene quindi questo problema non c'era però quando si scatta immobili cioè il peso rimane così non spostate il peso da un piede all'altro durante lo scatto e state magari due passi indietro rispetto al cavalletto se potete così vi togliete l'imbarazzo di un problema di questo tipo perché poi ve ne accorgete tornando a casa aprite le foto e dite porca miseria com'è che la metà sono mosse? e cosa si fa? gli si dice al cliente che ci sono solo la metà delle foto oppure gli si dice che non sono venute e si torna a farle? impensabile quindi fate attenzione a questa cosa piccolo extra piccolo extra da fotografi tenete conto che quando ci si reca a realizzare un servizio fotografico in un punto vendita presso un qualunque cliente la maggior parte delle volte ci saranno delle cose che il cliente vi dirà per mettere in luce quelli che sono i punti di forza del suo allestimento in questo caso specifico io mi sono fatto raccontare un po' di prodotti e alla fine alla fine dello shooting sono solito dire beh quella roba lì di cui mi parlavi facciamo che te ne compro una io abbastanza spesso quando mi reco a realizzare un servizio fotografico di qualunque tipo poi compro anche qualcosa questo non lo faccio per piageria nei confronti del cliente ovviamente lo faccio solo se i prodotti mi interessano davvero vi faccio un esempio se fossi in un negozio di abbigliamento per sola donna ovviamente non comprerei nulla non credo che ci sia qualcosa che mi sta bene lì tuttavia se mi trovo invece in un negozio che fa abbigliamento misto mi capita molto spesso di dire che bella questa camicia dai a quanto me la fai lo faccio per due motivi il primo è che il cliente mi ha appena raccontato quali sono le cose buone del suo negozio quindi mi ha detto queste sono cose veramente di ottimo livello queste altre invece sono delle robe un po' così che tengo magari per i ragazzini quindi io ho capito la differenza magari c'è differenza di prezzo veramente bassa tra quelle due cose però io ho capito qual è il valore in più di quella che costa un pelino di più ovviamente quelle che sono per i ragazzini mi capita di rado di comprarle però quando vedo una cosa che mi piace e di solito stiamo sulla fascia più alta quindi gliela butto sempre lì bella questa cosa quasi quasi te la compro il bello questo non ve lo dico per approfittarvene dei clienti ma ve lo dico semplicemente perché è una cosa che capita quando avete appena terminato uno shooting il cliente probabilmente sarà molto incline a farvi uno sconto fornitori se acquistate qualcosa oltre a essere contento sarà contento perché comunque nel momento in cui io compro qualcosa io sto apprezzando qualcosa del suo negozio che mi sta piacendo davvero se no non gli davo dei soldi quindi da un lato lo facciamo contento lo galvanizziamo perché gli stiamo comunque facendo riscontrare che il valore che lui dà in quello che fa viene riscontrato e apprezzato dall'altro compriamo una cosa che comunque è buona per noi e molte volte riusciamo anche a ottenere non uno sconto del 50% però un minimo di sconto fornitori di solito lo fanno quindi magari andiamo su un capo da a 120 euro magari andiamo a risparmiare 10-20 euro che insomma non li sbattiamo mica via 10 euro di benzina specie di questi tempi sono una manna dal cielo bene amici siamo arrivati al termine di questo video a me non resta che invitarvi a lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto vi do appuntamento al prossimo video e ricordatevi di lasciarmi un commento se c'è qualche argomento che vorreste vedere approfondito a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.